Grazie Presidente. Per iniziare mi permetta una considerazione. La considerazione è che il nostro gruppo in questa circostanza esprime la soddisfazione di vedere riconosciute le proprie posizioni che da anni ha rimarcato sia all'interno dell'Aula, sia di Camera che di Senato, sia davanti all'opinione pubblica sulle criticità che manifesta questo tipo d'Europa. Qualche anno fa, quando la Lega parlava dell'Europa dei burocrati, l'Europa tecnocratica, ci davano degli antistorici, ci davano di quelli che guardavano al passato e non vedevano il futuro. Ad oggi invece vedo che molti gruppi parlamentari fortunatamente si sono ravveduti e hanno capito che essere critici verso l'Europa non vuol dire essere anti-europeisti, vuol dire forse essere a favore della gente che vive questa Europa e forse un po' meno a favore dei grandi poteri, dei poteri forti, dei poteri delle banche che hanno contraddistinto la politica dell'Europa in questi anni. Presidente, noi ovviamente condividiamo anche con la nostra mozione che bisogna ed è necessario portare sul tavolo europeo due problemi principali, quello della disoccupazione, in particolar modo quella giovanilica, ormai sfonda quota 38%, e il problema dell'impresa. Ricordo che nell'ultimo anno di governo Monti sono chiuse 100.000 imprese. Per fare questo ci sono diversi strumenti che può mettere in moto e mettere in campo l'Unione Europea. Primo fra tutti rivedere e riformare la Banca Centrale Europea. Serve una banca in grado di garantire, anche tramite ovviamente le banche sul territorio, l'accesso al credito per le aziende. Questo è il principale problema che stanno manifestando le nostre realtà produttive. E senza le aziende che funzionano, senza le aziende competitive, senza le aziende che producono, possiamo fare la migliore politica sul lavoro, ma i nostri giovani non troveranno occupazione. Non solo, Presidente, io voglio anche ricordarle la criticità che abbiamo dovuto affrontare quando il nostro Paese ha accettato di entrare nell'Unione monetaria senza alcun tipo di condizione. Quando la Lega andava in quell'occasione a manifestare i problemi che sarebbero creati nella società reale, tutti ci davano dei rivoluzionari, tutti ci davano di quelli che non capivano quale grande prospettive dava l'Europa, noi invece vedevamo lontano. Vedevamo lontano ed oggi tutti vedono il presente. Noi, se qualcuno ci avesse ascoltato in passato, avremmo magari visto anche un po' verso il futuro. Ma questa situazione, Presidente, io le chiedo anche però che non sia da giustificazione per i gravi problemi che vive il nostro Paese a causa di scelte fatte o non fatte proprio dai governi di questo Paese. È facile in questo momento ed è anche giusto in parte dare responsabilità alle scelte fatte da questa Unione Europea che così fatta non ci piace, ma non si può prescindere dalle nostre responsabilità. Altrimenti prenderemo la cattiva abitudine che, devo dire, in una parte del nostro Paese è diventata consuetudine, di guardare sempre alle colpe esterne e non guardare alle nostre colpe. Dico questo perché, Presidente, il Governo che l'ha preceduta, per esempio, ha fermato una riforma che si chiama federalismo fiscale, che avrebbe, per esempio, portato a una copertura all'incirca di cinque volte quanto ha fatto lei proprio qualche giorno fa per gli ammortizzatori sociali in deroga. Parlo dei costi standard nella sanità, cinque miliardi di risparmi l'anno, bloccati da un Governo e, devo dire, anche da forze politiche che hanno dato fiducia a quel Governo e che hanno bloccato una riforma fondamentale per questo Paese. Sto parlando, Presidente, di guardare anche il nostro interno e non dare la colpa solamente all'Unione Europea perché penso che sia arrivato il momento di affrontare il problema che una siringa non può costare 0,26 euro in Sicilia e 0,04 euro in Veneto. Sto parlando di questo problema, Presidente, perché non è più accettabile che gli sforzi che state facendo, per esempio, per togliere l'Imu sulla prima casa, per esempio, quelli che dovrete fare per evitare l'aumento dell'IVA, siano accompagnati da un forestale ogni mezzo chilometro quadrato nella Regione Calabria. Dico questo e faccio queste premesse, Presidente, perché quando si va a trattare in Europa noi siamo favorevoli che lei ovviamente vada a trattare in Europa sapendo e volendo battere anche i pugni per difendere i diristi del nostro Paese. Ma io credo che saremmo poco credibili se continuano questi sprechi all'interno del nostro Paese. E per questo noi ovviamente, come Lega Nord, voteremo favorevolmente alla nostra mozione che ha come punto principale un indirizzo che va a favore dell'Europa, ma a favore di un'Europa dei popoli e delle regioni, delle regioni europee che devono sapere collaborare dal punto di vista immagino sociale ma soprattutto economico. Penso per esempio alla macro regione del Nord che può confrontarsi con la Carinzia, con il sud della Francia, con una parte della Slovenia, tessuti economici molto affini e che sarebbero utili allo sviluppo non solamente ovviamente di quest'area geografica ma di tutto il continente. Annuncio anche che verso la mozione presentata dalla maggioranza la Lega ha un voto favorevole perché appunto ricalca, come dicevo in premessa, le posizioni che la Lega ha sempre mantenuto su molti temi. Mentre ci asserremo sull'emozione presentata dal Movimento 5 Stelle perché ha dei punti che riteniamo positivi, altri come il reddito di cittadinanza che non ci vedono d'accordo, anzi va contro la nostra prospettiva e la nostra visione politica. Noi crediamo, e concludo Presidente, che le politiche sul lavoro devono essere incentrata a dare occupazione alla nostra gente e non a garantire un assistenzialismo. Infine, ovviamente giusto perché la dichiarazione di voto serve a questo, voteremo contrari alla la mozione di Sinistra Ecologia e Libertà che invece va sì quella verso un'Europa che non mira allo sviluppo ma mira esclusivamente all'assistenzialismo puro. Chiudo Presidente, se lei continuerà o meglio se lei dimostrerà di avere in questo momento una posizione che non sia solamente di promesse ma anche di fatti verso quello che ha detto nel discorso di insediamento ed oggi in quest'Aula potrà vantare anche la collaborazione della Lega dei provvedimenti che porterà avanti. Però quello che le chiediamo è concretezza, la possibilità di dire magari pochi provvedimenti ma che si possano fare perché il libro dei sogni è molto bello da raccontare però diventa un'enorme delusione quando non viene realizzato. Grazie. Grazie.